C'è da dire che l'Italia tutta ci ha dato grandi manifestazioni di solidarietà. Come ebrei siamo orgogliosi di essere italiani, ma non possiamo negare che abbiamo assistito a episodi anche in piazze di manifestazioni in cui si è inneggiato di nuovo alla morte degli ebrei, di nuovo mischiando i concetti di ebreo e di israeliano. Purtroppo l'antisemitismo esiste in Italia, è qualcosa che abbiamo denunciato da tempo e speriamo e lottiamo affinché possa essere sradicato.